A Pasqua e Pasquetta negozi chiusi in Toscana. In vista delle festività il presidente della regione Eugenio Gianni ha firmato una nuova ordinanza per domenica 4 e lunedì 5 aprile disponendo la chiusura di tutte le attività commerciali, negozi di genere alimentare, supermercati e tabaccai con l'eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole. Una scelta dovuta all'aumento dei casi di coronavirus registrati negli ultimi giorni in Toscana e la regione ha deciso quindi l'adozione immediata di misure più restrittive di quelle già adottate per la zona rossa, un modo per evitare la diffusione del contagio. I negozi di genere alimentare e di prima necessità potranno comunque raccogliere ordini online o telefonici e consegnare i prodotti a domicilio. Bar e ristoranti potranno restare aperti per assicurare l'asporto e la consegna a domicilio come previsto dalle disposizioni nazionali per le zone rosse. Grazie. 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 Grazie.